La rotta del turismo in Abruzzo è già stata invertita. L'assessore regionale Mauro Febbo risponde così ai dati sul turismo relativo al 2018 diffusi la settimana scorsa dall'ufficio studi della Confartigianato Imprese. Per l'associazione artigiana l'Abruzzo non decolla, numeri negativi soprattutto per quanto riguarda le presenze straniere, mentre sono al palo le prenotazioni online. Dati vecchi e superati rimarca l'assessore Febbo che riconosce le conseguenze negative delle tante catastrofi naturali dei terremoti al maltempo che negli ultimi anni hanno colpito l'intera regione. E garantisce i dati di quest'anno sono già positivi e lo saranno sempre di più, frutto anche dell'importante campagna di comunicazione online sui social media network avviata nelle ultime settimane. Febbo assicura il mare abruzzese non è mai stato così pulito come quest'anno. Dati fortemente negativi a cui non è seguita una programmazione puntuale, se penso che negli ultimi cinque anni non abbiamo avuto né l'assessore alla cultura né tantomeno l'assessore al turismo. A questo però va fatta una riflessione che quei dati, se letti attentamente, sono dati seppur vero negativi, mostrano un trend positivo rispetto al dato nazionale. Il dato nazionale parla di un più 2% nel 2018, l'Abruzzo ha fatto più 6%. Io faccio un'altra considerazione. Questi dati però non vanno dati al pubblico dominio senza una riflessione prima della stagione estiva, ma vanno casomai commentati con più attenzione e magari a fine stagione, in maniera che ci sono dati di raffronto. Ecco perché la mia contrarietà a questi dati. Peraltro, secondo me, fatti da chi tecnicamente non ha una professionalità di un certo livello. Stiamo rimettendo insieme tutto il puzzle del turismo, che poi quando parlo di turismo parlo di enogastronomia, quindi parlo di agricoltura, parlo di cultura, parlo di turismo religioso, parlo di cammini, insomma tutto ciò che è turismo.